Chi è Riccardo? Io. Lui. Chi è Fabio? Lui. Io. Quando hai deciso di lavorare in Mayer Group? Appena diplomato. Avevo 20 anni e ho deciso di lavorare con i miei venitori. Nell'ultimo anno di scuola di superiori fondamentalmente. E avresti voluto fare qualcos'altro nella vita? No. Oggi no. Al tempo, quando ho scelto la scuola, sono andato a geometri perché avevo comunque il padre geometra e ai 13 anni, finite le medie, non sai ancora cosa vorrai fare nella vita fondamentalmente. È difficile lavorare con tuo fratello? No, a volte. Come vi dividete i ruoli? Molto bene. Nel senso, lui pensa a tutto quello che è il lato amministrativo e io faccio la parte commerciale. Io mi occupo di tutta l'amministrazione dell'azienda e mio fratello è di tutta la parte commerciale. Qual è il suo peggior difetto? Vuoi sempre ragione? Eh, è un po' cocciuto, diciamo così. E il tuo? Uguale. Idem. La sua migliore qualità? È un gran editore. Sa ascoltare e è molto, molto pignolo e preciso. La tua migliore qualità? Sono un gran gestore. Forse quella per cui mi applico e che mi piace. Quindi proprio il rapporto magari col cliente e il modo di approcciarsi e la serietà soprattutto. Chi è il fratello più grande? Io. Lui. Il più alto? Io. Penso uguali. Penso uguali, non lo so. Ce la battiamo. Chi fra i due è il fratello più bello? Io. Ah, io. Il più simpatico? Io. Io. Il più pignolo? Io. Forse lui. Il più generoso? Uguali. Lui. Il più bravo a guidare un trattore? Io. Lui. Che domanda. La prima cosa che ti viene in mente se dico Mayer Group? Un'azienda di famiglia. Eh, una famiglia. Se fossi un trattore, saresti un... Un trattore grande, tanti cavalli. Un... Deutz 9.340. E tuo fratello? Uguale. Forse uguale. I due top di gamma. Cosa pensi abbia risposto, Fabio? La stessa cosa. Spero come me. La tua idea di futuro per Mayer Group? Un'azienda molto grande, in un territorio molto ampio e poi, in base alle prospettive, alle opportunità che si presenteranno, ci organizzeremo per dare il miglior servizio ai nostri clienti. E' un trend di crescita e di espansione continua come quella degli ultimi anni. Qualcosa che vorresti dire ai tuoi dipendenti e non hai mai detto? Che devono credere in noi e devono dare il massimo perché noi per loro ci saremo sempre e le cose andranno sempre bene se collaboreremo in pieno. Beh, un ringraziamento a tutti i ragazzi che ci sono e che contribuiscono alla nostra causa. Perché scegliere Mayer Group? Perché stiamo cercando di creare l'ideale azienda fornitrice. Diciamo quella che ti può dare assistere al 100% a 360 gradi dal percorso di approccio all'acquisto, all'acquisto, al post vendita, quindi a tutto quello che è il percorso stesso. Dall'inizio alla fine a poi il proseguo nella vita e nella durata dei mezzi che andiamo a vendere e ad assistere. Perché siamo un'azienda seria, affidabile e pronti a risolvere ogni problematica. Perché partecipare al compleanno di Mayer? Per vedere tutte le novità in anteprima del nostro settore, per conoscerci meglio. Saremo tutti presenti, pronti ad accogliervi e per festeggiare insieme a noi un importante anniversario di 60 anni. Perché sarà un momento di convivialità, di rivederci di persona realmente nella nostra sede dopo almeno 2-3 anni. E perché poi ci saranno tante novità da scoprire e alcune sorprese.